ad uno strumento culturale per i cattolici. Stavolta devo parlare di qualcosa che mi riguarda direttamente. Il 4 dicembre del 1968 usciva il primo numero di Avvenire. Un numero che arrivava in edicola senza che nessun numero zero l'avesse preceduto. Un'avventura costruita un po' a fatica, perché i due giornali padre e madre di Avvenire, l'Italia di Milano e l'Avvenire d'Italia di Bologna non ne volevano sapere di smettere le pubblicazioni. Ci volle la tenacia, l'intuizione, la forza di Paolo VI che in qualche modo impose il suo sguardo. L'idea che un giornale quotidiano nazionale dei cattolici parlasse a tutti e lo facesse da Milano, non da Roma, perché doveva essere un giornale italiano, non un altro giornale vaticano. Nasce così un quotidiano che oggi diremmo glocal, con radici profonde nella realtà italiana e uno sguardo aperto al mondo tipico, dello sguardo universale, questo significa cattolico, di un giornale ispirato in maniera così ambiziosa ed alta. Avvenire oggi è un grande quotidiano di informazione. Lo slogan di questi 50 anni è stato per tutti noi il futuro ogni giorno. Siamo impegnati in un'impresa che pare titanica nel tempo dell'informazione diffusa. Restare aderente ai fatti, proporre con chiarezza le opinioni, credere con tenacia all'idea di un quotidiano come d'un giorno, lo strumento che ti dà un giorno della vita del mondo e lo mette in mano alle persone che si fidano di te, con chiavi interpretative e con dei fatti che aiutino a districarsi nella giungla delle fake news, come si dice adesso, delle bufale. Speriamo di continuare a riuscirci con il sostegno dei lettori.